cari fratelli e sorelle buona giornata oggi è la solennità dell'annunciazione del signore sentiamo che quel saluto rivolto dall'angelo gabriele a maria rallegrati piena di grazia è rivolto a tutta l'umanità è un annuncio che ci dice che il signore ci ama e la voce dell'angelo che ci invita a rallegrarci e la voce di chi invita anche ad accogliere il signore che viene ad abitare in mezzo a noi non per lasciarci ma ripa per rimanere per sempre con questo spirito di fede iniziamo il nostro momento di preghiera quotidiano nel nome del padre del figlio e dello spirito santo la pace sia con voi dal vangelo secondo luca in quel tempo l'angelo gabriele fu mandato da dio in una città della galilea chiamata nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di davide di nome giuseppe la vergine si chiamava maria entrando da lei disse rallegrati piena di grazia il signore è con te a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo l'angelo le disse non temere maria perché hai trovato grazia presso dio ed ecco concepirai un figlio lo darai alla luce e lo chiamerai gesù sarà grande e verrà chiamato figlio dell'altissimo il signore dio gli darà il trono di davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di giacobbe e il suo regno non avrà fine allora maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo le rispose l'angelo lo spirito santo scenderà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà con la sua ombra perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di dio ed ecco elisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile nulla è impossibile a dio allora maria disse ecco la serva del signore avvenga per me secondo la tua parola e l'angelo si allontano da lei il verbo si è fatto carne oggi la chiesa celebra questa solennità esattamente nove mesi prima del santo natale il figlio di dio si è incarnato nel grembo di una donna e questa donna lo ha portato come ogni madre per nove mesi nel suo grembo gesù possiamo dire è entrato nella storia dell'umanità come entra ciascun uomo affidandosi alla maternità di maria oggi tutto ebbe inizio il verbo si è fatto carne inizia la nostra salvezza e questa concezione dell'inizio di tutte le cose era così presente nel medioevo che in alcune città come firenze oggi il 25 marzo iniziava l'anno l'anno civile calcoli eruditi del medioevo poi fissavano il 25 marzo come una data nella quale si concentravano tre eventi veniva considerato a questo giorno quello della creazione di adamo un calcolo erudito impossibile a farsi ovviamente il giorno del concepimento di cristo appunto dell'annunciazione e il giorno in cui cristo era morto si credeva che il venerdì santo in cui il signore spirò era proprio un 25 marzo ovviamente questa coincidenza cronologica di date aveva un grande significato per la fede e lo ha anche per noi il giorno in cui viene creato adamo in cui nasce l'umanità il giorno in cui viene ricreata l'umanità perché dio la fa propria facendosi uomo e poi il giorno in cui il signore dona se stesso in un amore senza fine per questa umanità dio ha tanto amato il mondo da dare a noi suo figlio per questo il 25 marzo è una data molto significativa possiamo dire salvifica nell'antichità era considerata tale giorno anche di prodigi particolari ricordiamo che nella vicina andrea nella coincidenza del 25 marzo solennità dell'annunciazione e il venerdì santo è avvenuto per due volte in questo secolo il prodigio della sacra spina un prodigio che è un richiamo e che ci richiama appunto alla salvezza che anche noi viviamo oggi il verbo si è fatto carne per salvare tutta l'umanità si è fatto uomo perché ogni uomo ogni adamo possa entrare in comunione con il signore e per questo che nella giornata di oggi abbiamo deciso di affidarci a maria santissima che veneriamo con l'antico titolo di madonna di ripalta lei la madre di dio interceda per questa città come ha sempre fatto tenga lontana la pandemia e la tenga lontana da tutto il mondo un mondo che sta lottando con l'intelligenza della scienza con la cura dei medici con le misure di sicurezza di coloro che curano il bene comune cari fratelli e sorelle quanto è importante che tutti quanti noi guardando al verbo di dio che si è fatto uomo sentiamo davvero che da allora ogni uomo possiamo dire porta in sé l'immagine di cristo l'immagine del verbo di dio si è fatto uomo perché questa umanità è amata totalmente dal signore e noi non possiamo assolutamente disprezzare nessun uomo che è venuto in questo mondo perché a quest'uomo dio si è voluto unire in questo mistero l'angelo a maria che è turbata perché non sa come possa avvenire questo concepimento dice nulla è impossibile a dio abbiamo bisogno di ripetere questa frase in tutta la giornata di oggi nulla è impossibile a dio ripeterla davanti ai dati che speriamo oggi siano in discesa davanti a coloro che stanno lottando con la malattia sia questa frase sulle labbra di coloro che in questo momento stanno rischiando di perdere la speranza la forza la fiducia nel futuro nulla è impossibile a dio e noi vogliamo concludere questa nostra preghiera anzitutto rifacendosi rifacendoci alla poesia la poesia riesce a mettere in versi ad esprimere la grandezza del mistero una lirica di una poetessa contemporanea alda merini nata nel 1931 a milano e ivi morta nel 2009 una donna che è passata attraverso la grande sofferenza di un disturbo bipolare ha conosciuto la durezza di un manicomio però tutto ciò non ha impedito al suo cuore di cantare la bellezza della vita e di cantare anche il mistero di dio nella raccolta di liriche magnificat così canta la vergine maria colei che accoglie il verbo di dio dicendo eccomi salvate la madre di gesù ella è la dimora degli angeli ella è dimora della parola la parola fiat ha tagliato il suo grembo in due metà tenebra e metà dolore salvate la valle del signore per camminare dio bambino ha bisogno di un prato per camminare dio ha bisogno del mondo salvate la madre di dio ella è tenera ella è solo una fanciulla ma tiene i coltelli della sapienza nel grembo per aprire un varco al demonio lei lo affronterà la madre di dio la migliore lo prenderà per sempre lo caccerà nell'inferno lei l'eroina di tutti i tempi la dolce madre di dio la tenera fanciulla d'amore lei aprirà un varco alla poesia lei aprirà un varco al sole salvate la tenera madre di dio i suoi seni acerbi le sue braccia bianchissime le sue mani che culleranno il dio vero salvati i suoi fianchi di giada i suoi occhi che paiono stelle la sua pelle che bianca come il respiro fu trapiantato in lei l'albero della vita della vita e la luce il dio secolare ambrosia di tutte le genti benedite la tenera ancella di dio e la sua signoria ella diventerà la regina la regina dei cieli salutate in lei la porta del sorriso beato e l'onniscienza futuro ella ha previsto tutto perché pur non avendo radici maria è la sola radice del mondo la radice di un mondo che spera la radice di un mondo che continua a dire davanti alla frase dell'angelo alle promesse di dio nulla impossibile a dio continua a dire eccomi sono la serva del signore che ciascuno di noi possa riempire la propria giornata di questo mistero il verbo di dio si è fatto carne nel grembo di una donna riempirlo con questa fede con questa certezza che dio è accanto a noi e non ci lascerà mai e al padre da cui il verbo di dio è sceso rivolgiamo la nostra preghiera vi ricordo che oggi papa francesco ha invitato tutte le confessioni cristiane alle 12 a recitare la preghiera che gesù ci ha insegnato e lo faremo anche noi raccogliendoci nell'ora in cui la chiesa attraverso la preghiera dell'angelus tradizionalmente ricorda proprio il mistero dell'incarnazione perché il mondo torni a sperare diciamo insieme padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male oggi sarà trasmesso il rosario e la santa messa dal santuario della madonna di ripalta ma fin da questa mattina vogliamo rivolgerci a maria vergine bella madre dolcissima di ripalta nostra potentissima avvocata e protettrice il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi la tua immagine luce conforto e sollievo e gioia la nostra povera vita ripiena di insidie di amarezze noi perciò in te confidiamo stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'ofanto ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale temporale fa piovere su di noi le acque della divina grazia perché vivendo qua giù la tua vita d'amore possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli lo speriamo e così sia salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo essudi figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria maria santissima di ripalta prega per noi maria santissima madre di misericordia prega per noi maria santissima salute degli infermi prega per noi san giuseppe prega per noi san pietro prega per noi san potito prega per noi san trifone prega per noi sant'antonio abate prega per noi sant'antonio di padova prega per noi san francesco da paola prega per noi san rocco prega per noi e tu venerabile antonio palladino intercedi per questo popolo che hai tanto amato vi do appuntamento ecco ecco alle 12 ciascuno di noi nel segreto del suo cuore nella sua casa rivolga a dio la preghiera del padre nostro in comunione non solo con la chiesa cattolica ma in unione con tutte le confessioni cristiane questa sera alle 18 tutti fermi per affidarci a maria santissima di ripalta con la preghiera del rosario e poi per celebrare la santa messa per seguire la santa messa che sarà celebrata dal sanctuario ecco oggi festa dell'annunciazione voglio fare da questo microfono dall'episcopio i migliori auguri di buono nomastico a monsior galantino nostro don nunzio fare gli auguri di buon anniversario di sacerdozio a don angelo mercaldi il parroco della dolorata a don viaggio podano salesiano uno dei sacerdoti della nostra comunità di cristo re oggi ci sarebbe dovuta essere un'ordinazione sacerdotale quella del nostro diacono antonio miele originario di orta nova e collaboratore della parrocchia di stornara ecco capisco magari la sofferenza però con antonio e con tutti quanti siamo sempre protesi verso un momento nel quale tutto sarà finito tutto andrà tutto bene tutto andrà bene e potremo celebrare le meraviglie del signore e celebrare anche questa ordinazione sacerdotale nulla è impossibile a dio il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il nostro aiuto è nel nome del signore vi benedica di onnipotente padre figlio e spirito santo buona giornata a tutti grazie a tutti